Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avete letto al titolo, oggi vi ricordo come riconosce un canale che compra iscritti Noi, cioè, mi trovavo su YouTube quando ho trovato questo video top 10 Eminem songs 10 milioni di visualizzazioni Apro Eh, ma il video non funziona perché con l'applicazione che posso registrare Perché i video su YouTube non partono se sto registrando Però adesso vi farò vedere lo stesso Vedo che questo canale si chiama watchmoio.com e ha 15 milioni di iscritti Vedo il video a 10 minuti di visualizzazione e vedendo la differenza tra il numero di iscritti e non di visualizzazione Comunque dico vabbè 10 minuti di visualizzazione però considerando che comunque a 15 minuti di iscritti vabbè ci può stare E se questo video vi è piaciuto molto vado a vedere gli altri video E guardate qui ragazzi 15 milioni di iscritti Guardate quante visualizzazioni fa questo canale Beh, ci sono molti video famose però guardate qua Vediamo un video di qualche giorno fa per esempio Cioè Cioè Due giorni fa 15 milioni di iscritti Meno di mezzo Meno di visualizzazioni Posso capire che non tutti e 15 milioni di persone che possono andare a vedere Però su 15 milioni di iscritti non è possibile che Tutto questo video non raggiungo neanche il milione Guardate neanche il milione 76.000 78.000 773.000 112.000 56.000 56.000 15 milioni di iscritti ragazzi Andiamo a vedere ancora giù E da più di 3 giorni non fa milioni di visualizzazioni E da più di 3 giorni non fa milioni di visualizzazioni Il canale ha 15 milioni di iscritti ragazzi Io questo video non voglio dire al 100% che questo canale si è comprato di iscritti Però qualcosa, cioè ci sta qualcosa che può essere bruciato Scusate il termine, cioè è il modo in cui l'ho detto Però ragazzi guardate qua non è possibile 15 milioni di iscritti neanche mezzo milione di visualizzazioni Cioè 65 milioni di visualizzazioni e 15 milioni di iscritti Secondo me questo canale si è comprato iscritti Io non voglio... Non c'è nessuno... Cioè questa è una mia opinione Poi se il video non vi piace potete mettere anche un dislike Però secondo me questo canale si è comprato iscritti Perché non è possibile che su 15 milioni di iscritti Neanche un milione di visualizzazioni Non lo so vabbè La cosa mi puzza un poco Vabbè comunque il video è finito Spero che vi sia piaciuto Se si, iscrivetevi al canale e lasciate un like Con me la... Grazie a tutti Grazie a tutti